bellissime nozelle di qualsiasi età benvenuti al mio nuovo appuntamento quattro chiacchiere col tacco più spesa oggi è venerdì 18 gennaio allora direte voi perché venerdì fa il video di solito lo fa il sabato è purtroppo ci sono varie ragioni che perché venere sabato domani non posso farlo perché devo fare tanti giri a brescia allora fai la spesa corri qua fra il video di si diventa amati ho anticipato di un giorno anche perché questa settimana fatto la notte quindi non so per quel motivo abbiamo fatto solo quattro giorni quindi stanotte non vado a lavorare sono in ferie e non si sa per quale motivo quindi mi va bene così quindi ho perfetto farlo adesso vi garantisco che è da stamattina che ho finito le 6 sono andato a casa mi sono lavato ho fatto colazione ho fatto i lavori in casa perché purtroppo adesso non c'è la regia perché luisa e via ad affare quindi sono da solo ho fatto tutti i lavori sto facendo le lavatrici e sono andato a fare anche la spesa mentre che sta venendo giù la lavatrice ci sta finendo quindi non mi sono ancora un fermato un secondo adesso ho finito giro il video scusate che sono anche sta andando anche via con la testa finito giro ancora finito il video e devo far parte nata la lavatrice insomma come vedete anch'io sono impegnato ma giustamente devo dare una mano a luisa perché da sola trovo pesante tutte queste cose allora come vi ho già detto fatto la notte e diciamo che non voglio mettere le mani avanti ma adesso stasettimana non c'è stato tanto freddo cioè siamo arrivati a temperature di 5 6 gradi di sera si siamo andati giù anche quasi a zero però non ha ghiacciato e rispetto all'altra settimana non c'è nebbia non c'era nebbia quindi tutto sommato sono stati dei giorni insomma anche adesso c'è il sole dei giorni per andare in macchina perché faccio tanta strada e lavoro è andato tutto bene tranquillo non è dato problemi la macchina insomma ho tirato avanti per fortuna che avevo un'anima veloce da correre quindi sono non me ne è mai venuto proprio perfetto e pensare che una volta quando andavo a dare una mano cioè in ospedale per mio padre quando facevo la notte prima non ti passa più e poi ti viene su un sonno incredibile che meglio lavoro oltretutto che l'ospedale si sa anche questo è vero poi cosa posso dire niente che la settimana è andata così domani devo incontrarmi con una persona poi vediamo se è uscito qualcosa di interessante di manga da fermarmi poi basta non credo di fare altro cioè fare altre cose ma non mi vengono in mente ah sì sono dato sono dato oggi ho fatto salto in farmacia anche quella nuova che hanno aperto qua nella mia frazione per vedere come anche perché ho preso uno spray per la vuola per luisa e tutto sommato è piccola e non c'era coda come al solito si trova nelle grandi quindi grandi farmacie quindi mi è andata bene dai cosa posso dire non so cos'altro dirvi perché è stata una settimana in sì diciamo che sarà la stagione o a tante altre cose non so cosa ma dormo poco sarà anche la vecchiaia ormai mi 50 anni si fanno sentire per modo di dire vecchiaia insomma sono ancora giovane però dormo poco però vedo che riesco andare avanti non mi faccio di niente ovviamente non mi non prendo niente quindi alla fine si vede che tutto sommato sto leggendo ancora vota poi cosa posso dirvi di bello niente adesso non mi viene a sì e non vi ho più parlato anche adesso è aperto dei fight perché ormai in australia sono essendo in piena estate anche perché hanno detto gli esperti da col callo i fai chi cercano di volare meno possibile come noi insomma come noi senso che cercano di stare all'ombra cacciano più o meno a mattina presto e ormai i pugli cioè i cuccioli i pulcini se ne sono andati credo perché non si non si vedono più quindi sono già partiti dal nido ormai restano solo i genitori ogni tanto si vede solo il maschio che fa la guardia al nido perché sapete la competizione per i bei per i nidi belli alti che si può cacciare bene bene sono pochi quindi fanno sulla guardia e del resto lì ormai lo guardiamo stesso perché non si sa mai cosa può succedere però adesso speriamo che sta arrivando ancora presto non è ancora primavera però per febbraio dovrebbero già cominciare a copiare questi di milano e quindi speriamo bene che si vedono gioia e giulia perché non è detto chi fa chi abbiano cioè che frequentino lo stesso nido e possono anche cambiare idea da altre parti quindi speriamo che ritornino lì per vedere quest'anno la covata che in teoria super se come l'anno scorso per pasqua dovrebbero dovrebbero nascere ma non si sa perché tutto mistero quindi vediamo insomma basta un altro di perché sono screditimi stanco e infatti notate non faccio un discorso giusto perché sto cominciando a partire con la testa col sono quindi vado avanti col video e vi faccio vedere questa spesa del medico cosa bella che posso dirvi interessante più che altro che una inserviente una una cassiera qui sapete quel che mi fanno di tutto la cassiera o hanno dietro e scaffali mi ha notato oggi a fare la spesa e detto come mai faccio oggi gli ho spiegato per il momento che non potevo fare la salda quindi ho detto è una brava osservatrice credevo di passare in osservato invece mi ha notato che ho cambiato il giorno spero perché non siano pochi clienti se non andare per romare le cose boh andiamo avanti con la spesa perché non so cos'altro dirvi pochi clienti purtroppo non mi preparo niente tutto spontaneo come che mi viene quando prossimi so pro dirvi qualcosa avrò qualcosa lì ve lo dirò adesso ho più dalla nella testa nebbiata che altro boh andiamo avanti ho preso un pacco di carta igienica viene 2,79 euro sono 8 rotoli con 3 veli diciamo che si è fatta cara perché non costava meno una volta poi ho preso 8 litri di latte parzialmente scremato sapete che amy non può bere quello intero quindi gli fa male quindi costa 0,65 centesimi al litro poi ho preso ho provato sto caffè si chiama delizio di caffè michela bar caffè in grani con gli ingrani tanto al bimbi che si bisogna stare attenti a non alzare troppo la velocità perché dopo diventa polvere non si può più berlo quindi sui 7 8 di velocità più o meno è un chilo e viene 2 euro 99 l'ho trovata vediamo se sarà buono si prova poi ho preso due tipi di sugo uno all'arrabbiata che viene 89 centesimi e l'altro a salsiccia che viene un euro 39 centesimi poi ho preso un filo di riso arborio perché il riso vuole quello sotto vuoto infatti sotto vuoto si è ancora sotto vuoto e viene un euro 49 al chilo poi ho preso un filo di sale grosso viene 17 centesimi zucchero eccolo qua viene un chilo di zucchero viene 69 centesimi scusate poi ho preso aranciata perché vogliamo ogni tanto cambiare insomma due litri di aranciata viene a gasato viene 69 centesimi gas gasato si mi ha messa 69 centesimi poi ho preso una pepsi un litro e 75 l l centi centi litri un litro e 75 e viene un euro e 29 poi preso due utili di ginger dal litro e mezzo viene 35 centesimi poi ho preso un un chilo di carote un chilo di carote un chilo di carote 99 centesimi ah si scusate ok frisantino bianco un litro e mezzo viene 2 euro 19 poi ho preso una bottiglia di limonezza sempre la casa 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 casaà 0 69 centesimi e poi ho preso una palla dove 200 ml la hanno fatta 50 centesimi poi preso un bico di vino bianco sorse to sorsetto e nero 09 centesimi poi tortellini freschi blanca bianca mezzo chilo e viene un euro 49 centesimi ancora frudo poi un chilo di cipolla dorata viene un euro 19 ho preso il viste visto un chilo di viste viene due euro e venticinca non si 2 euro 25 giro più scusate ho preso un chilo di misto funghi però suggeriti messi via perché sennò mi partivano avevano 3 99 comunque vi garantisco che qualsiasi piatto che fatti dei funghi buonissimo e costa anche poco sono i funghi misti porcini eccetera 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 poi c'è ho preso questo qua scusate ragazzi biscotti un chilo e mezzo di biscotti e viene un euro 69 sono frullini poi i crackers perché a misa piace anche a me piace un pacco di cracker se viene un euro 19 poi qua mi tira l'orecchio ma potrà potevo fare un piatto di finocchi ho preso due chili roti questa non era un offerta ma costava 2 19 speso 5 euro 23 pazienza ma devo fare dovevo fare i finocchi con bensamella e sottilette quindi mi servono non li ho trovati in offerta pazienza poi ho preso le uova più 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 dove ho messo le uova forse da satinone perché mi ricorso eccole qua se sono tue intere 10 uova e ci vuole vengono un euro 49 centesimi della aia e poi poi ho preso un chilo questo medico ecco che ho preso scusate mia moglie che mi ha chiamato e due pacchetti di di tagliatelle da mezzo chilo quindi un pacchetto viene 99 centesimi poi ho preso un po di patati di 2 kg viene un euro 09 no un euro 79 centesimi poi ho preso un pacchetto di gnocchi ripieni a specche perché sapete le specche vado ormati e viene un euro 79 bene qua il video termina qui come vedete su sempre un tacco telecomandato quando mi chiami mi vuole mi chiami mia moglie quindi io qui ho finito il video spero che vi sia piaciuto scusate se ho fatto tanti errori di pronuncia di ma sono proprio cotto non mi sono ancora fermato quindi spero che vi avesse piaciuto come vedete iscrivetevi soprattutto seguite sempre luisa che brava nei suoi video quindi ci vediamo la prossima volta spero il prossimo sabato non venerdì ok ciao a tutti e alla prossima ciao